In questi giorni la polemica principale è stata sul fatto che lo sciopero sarà di venerdì. Le chiedo di spiegarci a questo punto perché gli scioperi sono sempre di venerdì. Non sono sempre di venerdì, in questa fase sono di venerdì, sono di lunedì, capitano anche in altre occasioni. In più, questa storia che ci sarebbe il weekend, siamo in un mondo un po' strano, la gente oggi lavora anche di sabato, in alcuni casi lavora anche di domenica, se pensiamo ai treni, se pensiamo agli ospedali, se pensiamo ai centri commerciali. Quindi questa idea per cui chissà cosa succede, che cosa c'è dietro, perché di venerdì uno fa una vacanza, è una sciocchezza, in più non si rimuove un punto. Quando una persona decide di scioperare, rinuncia al proprio stipendio. Fare sciopero costa, non è una cosa gratis e quindi non c'entra assolutamente nulla il weekend o il ponte. Lo sciopero è una scelta di mobilitazione e di lotta, quindi sinceramente questa io la trovo una sciocchezza. Grazie. Grazie.